buongiorno sono stefano schirato e sono un fotografo freelance collaboro con diverse riviste italiane ed estere e insegno fotogiornalismo e storytelling il corso di fotografia 1 è stato concepito come un percorso rivolto a tutti coloro che vogliono o per esigenza per curiosità approcciarsi al mondo della fotografia potendo rassaporare da subito tutti gli aspetti più essenziali non si parlerà soltanto della storia della fotografia si lavorerà sicuramente sulla tecnica sui linguaggi ma soprattutto impareremo a raccontare delle storie anche con le fotografie di still life e di prodotto faremo riuscite pratiche di gruppo che sono fondamentali per la crescita tecnica individuale per comprendere bene i concetti teorici che abbiamo trattato l'obiettivo è quello di formare gli allievi ad una corretta idea di fotografia e contemporaneamente fornire loro la conoscenza di tutte le funzionalità tecniche che sono necessarie per la padronanza della macchina fotografica vi aspettiamo e sono convinto che faremo dei bei lavori assieme